Questa è una giornata importante per la città, è una giornata importante per me e per noi. Questo è un bene che è stato riconsegnato alla città grazie alle associazioni, agli enti che sono l'indicati, grazie al Comune di Napoli. Le stesse mafie e camorre hanno un concetto di bellezza. Boss Zazza non a caso ha scelto questa villa per far vivere la propria famiglia. Io ho visto anche la stanza della figlia del boss di Michele Zazza, conveduta sul mare. Prima un giornalista mi faceva la domanda, ma non sarebbe utile o più utile vendere i beni confiscati per far cassa e salvare i comuni? No. Io penso, a parte se li prestano, dico no anche per un'altra ragione. Penso al reddito sociale. Il messaggio più forte che si può dare alle mafie è quello di dire mi prendo il bene che tu hai utilizzato in quel territorio e lo restituisco attraverso i giovani cittadini e le associazioni a quel territorio. A San Giuseppe Iato c'era un casolare in cui la mafia ha sequestrato per molti mesi, ha ucciso e squaiato nell'acido Santino di Matteo. Aveva dieci anni. Aveva il solo torto di essere il figlio di un collaboratore di giustizia. In quel luogo oggi c'è un'azienda che produce vino. Quindi dalla morte alla vita. Quindi io non credo che con i beni confiscati noi dobbiamo far cassa. Poi qua lo diceva anche Raffaele, quanto è importante sottrarre i beni alle mafie. Io non posso mai dimenticare in un processo che fece quando ero magistrato in Calabria, un boss dell'Andrangheta, fu condannato all'ergastolo. Io feci tutto il processo. Lui non disse una parola durante tutto il processo. Dopo qualche giorno cominciamo il procedimento per il sequestro e la confisca dei beni. Come stavamo, come il tribunale di prevenzione decise la confisca dei beni, lui mi chiamò, mi fece avvicinare vicino alla gabbia e in dialetto calabrese mi disse Dottor, ma avete messo la famiglia contro? Nel senso che se tu togli i beni, l'economia, togli la ragione principale per cui la mafia esiste. E vorrei dire altre due cose. Don Peppe Diana, vent'anni, un prete che viene ammazzato. Le parole pesanti, forti, che vanno al cuore, sono più importanti delle manette. Perché le forze dell'ordine e la magistratura fanno un lavoro straordinario, li saluto, sono qua davanti a me, ma ne arresti cento? Ce ne sono trecento. Se non fai quella rivoluzione culturale di cui parlava Giovanni Falcone, se non ci sono scrittori che raccontano, se non ci sono preti che fanno gli scout e che non fanno altro. Che non è che tra i preti ci sono tutti i santi. Le persone buone stanno tra i preti, ci stanno tra i magistrati e tra l'altro ci sono persone cattive. E chiudo dicendo che facendo il magistrato posso dirvi che i miei principali nemici non sono stati quella manovalanza popolare di cui parlava Raffaele Cantone, al cui faccio i più sentiti auguri per il prestigioso e incoraggiante incarico che ha avuto. Ma i principali problemi me l'hanno creati l'andrangheta dei colletti bianchi, quei magistrati collusi, quei poliziotti, quei carabinieri e finanzieri, minoranza collusi, quei pezzi di istituzioni colluse. Se non ci fossero loro, la camurra, l'andrangheta e la mafia sarebbero già state sconfitte da moltissimo tempo. E quindi ha ragione la professoressa quando dice non lasciate sole, guardate perché la solitudine è propria del magistrato, perché il magistrato prende decisioni difficili da solo e le deve prendere da solo e non deve cercare il consenso popolare. Ma se il magistrato rimane isolato, muore. E attenzione che la morte oggi non è solo quella fisica, perché le mafie oggi sono più raffinate. Hanno capito che se ammazzi un magistrato, la gente, anche quegli indifferenti di Gramsciana memoria, si debbono schierare. Oggi li ammazzano con la carta da bollo, con le calumnie, con la violenza morale, con i trasferimenti, i sacerdoti coraggiosi che vengono trasferiti, i carabinieri, poliziotti e finanzieri coraggiosi trasferiti, i magistrati trasferiti. La gente non sa niente, perché la propaganda di regime ti costruisce la necessità di quel trasferimento. Allora aprite gli occhi, guardate anche oltre le paludate veline di mass media spesso controllati. Andate al cuore delle cose, perché la gente sa e capisce e i nemici più pericolosi sono quelli che si vestono. Come noi, come sono io oggi vestito perché è un incontro istituzionale importante, altrimenti spesso mi metto anche senza giacca e cravallo. Che si vestono meglio di noi, che hanno i figli che vanno alla Luis, alla Bocconi, magari non vanno nelle scuole pubbliche. Allora vi chiedo, fatela e chiudo, ma ci tenevo a esserci, fatela quotidianamente quella rivoluzione morale e culturale. E soprattutto voi giovani a cui Calamandrei si rivolse quando disse la nostra amata Costituzione Repubblicana vivrà fin quando ci saranno giovani che la vorranno far vivere. Quindi questo è il messaggio più forte. Noi, ognuno di noi ormai siamo adulti, hanno scelto una strada e la strada della giustizia è sempre in salita. Voi in questi mesi, in questi anni decidete da che parte stare. Bisogna schierarsi e se ti schieri dalle parti delle mafie la strada non è in discesa. Io lo dico sempre ai miei figli. E chiudo su questo, ricordo quando io cercavo, quando stavo in Calabria, ai momenti più difficili di nascondere, tra virgolette, a mio figlio che aveva sei anni, i pericoli. Noi andavamo alla macchina blindata, i poliziotti, i carabinieri cercavano di nascondere la pistola. Un giorno mio figlio di sei anni, che parlava poco con me, disse papà ma è vero che un giorno di questi ti ammazzano? E dissi ma che dici Andrea? Non è un po' essere. E ho detto no, ma me l'hanno detto i compagni di classe. Non nascondiamo ai nostri figli che oggi lotto alla mafia significa strada in salita e non in discesa, ma è una strada che abbiamo il dovere morale come singoli e come componenti di una collettività di portarla avanti fino in fumi. Grazie. Grazie.